50 anni fa moriva john steinbeck grande romanziere americano era morto appunto nel 1968 qualche anno prima nel 62 gli è stato conferito il premio nobel per la letteratura john steinbeck autore di grandi romanzi la grande epica americana anche corposi drammatici ha scritto anche romanzi più lievi più 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 lievitanti di leggerezza uno di questi che vi raccomando così per cominciare a farsi il gusto su steinbeck è vicolo canary edito in italia da bonpiani vicolo canary è un romanzo breve è un romanzo allegro è un romanzo intessuto di ironia e di grande stupore di umanità insomma curiosità per i caratteri umani siamo in california nella provincia in un mondo di gente abbastanza povera sono pescatori gente che si deve arrangiare quasi tutti i robusti bevitori che si raccontano tante storie perché il vino rende chiacchierini e canterini insomma e in questo mondo di povertà di gente anche un po rufiana che deve arrangiarsi con mille modi c'è dentro anche però una genuinità di moralità che magari non si trova su più in alto verso i ceti intellettuali e in questo mondo un po ruspante rusticano californiano bello ironicamente pennellato c'è una figura un po' diversa un dottore doc un dottore che viene da altre radici sociali da altre esperienze che però si impasta molto bene con quella gente e la lezione di questo romanzo lievitante divertente è che spesso giù nei ceti che fanno più fatica per arrabbattarsi a vivere dentro la semplicità magari c'è più tensione morale che non in altri ceti più intellettuali o più ricchi insomma questa è un po' la lezione di Steinbeck un romanzo lieve in cui c'è la mano forte del maestro di narrativa vicolo canneri John Steinbeck edito da Gompiani